Presidente, un augurio per tutti i cittadini di Ravenna ma anche per i soci di Coffcommercio per questo Natale? Assolutamente sì, un grande augurio a tutti i nostri associati, a tutti i cittadini di Ravenna, a tutti gli imprenditori, a tutte le persone che operano nella nostra città, nel nostro territorio, questa nostra bella Romagna e anche oltre. Cosa posso dire? Un grandissimo augurio di buon Natale, buone feste e che l'anno non sia peggiore di quello dell'anno scorso, perché è iniziato veramente male, con l'alluvione è stata veramente una catastrofe, però si è chiuso, si sta chiudendo abbastanza bene. Purtroppo dobbiamo ancora soffrire di situazioni internazionali molto pesanti e veramente gravose, ma forse riusciamo con la nostra volontà, con la nostra forza a superare anche questo momento davvero critico. Auguri a tutti e buon Natale. Speriamo che questo sia veramente un anno migliore rispetto a quello passato e che comunque anche gli imprenditori possano realizzare i loro sogni e anche i loro clienti con cambia la capacità, diciamo, di realizzare anche loro e loro attraverso i nostri imprenditori del mondo associativo. Grazie.